È legata a questo concorso di cui si parla da tanto tempo e che credo sia arrivato il momento di dire, non so perché non la dicono tutta la verità, compreso l'euro parlamentare D'Amato. Invece di accusare la Regione che ad oggi non solo ci ha tolto la competenza in una fase particolare del raggiungimento di quell'obiettivo a dare questi patentini alle guide turistiche, ma ancora oggi dopo un anno e mezzo ce la ridà la delega al turismo e comunque il concorso non si fa. Compreso questa euro parlamentare si attardano al fatto di consegnare indietro o meno la 100 euro. Credo che sia veramente brutto portare all'attenzione quasi maldestra un po' tutti quanti. Credo che sia uno dei motivi per i quali anche la città non riesce a ridefinirsi e a vedere dove è la verità. Quel concorso va fatto, chiunque lo fa lo deve fare bene in maniera trasparente e in questo momento dirò anche le tappe per farvi capire meglio perché non si è fatto, perché lo vuole fare la Regione e perché qualcuno si attarda soltanto a parlare della iscrizione. Credo che era diventato necessario che vi comunicassi le verità e soprattutto quello da trasmettere poi ai 4.000 candidati e un po' a tutta la città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.